Ehi Google, come stai? Mi sento particolarmente utile. Che posso fare per te? Qual è la modalità del termostato? Termostato Neste è in modalità eco. Ok Google, pioverà oggi a Bergamo? A Bergamo oggi non si prevede pioggia. Sarà parzialmente nuvoloso, con una massima di 25 gradi e una minima di 15. Ok Google, accendi il riscaldamento. Certo, metto termostato Neste in modalità calore. Ehi Google, qual è la temperatura del termostato? Il riscaldamento è impostato a 21 con una temperatura attuale di 19 gradi. Ok Google, e qual è l'umidità del termostato? Termostato Neste indica un'umidità del 45%. Ok Google, imposta la temperatura a 22 gradi. Va bene, imposto termostato Neste su 22 gradi. Ehi Google, abbassa la temperatura di 4 gradi. Certo, diminuisco la temperatura di termostato Neste. Ok Google, aumenta la temperatura di 2.5 gradi. Ok Google, aumenta la temperatura di termostato Neste. Ehi Google, accendi la modalità Eco. Va bene, metto termostato Neste in modalità Eco. Ok Google, spegni il termostato. Va bene, spengo termostato Neste. Ehi Google, grazie mille. È un piacere. No Snapchat, un piacere. Ok Google, è fantastico. Ecco, wallamente nella lingua del termostato Nощabimera. Ok Google, unaですか? Un martial del termostato Esjaganda, è un piacere. Grazie a tutti.